ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre incredibile ma vero spia mestosa colpisce ancora dopo il terno secco vinto a genova nell'estrazione del 4 di novembre arriva l'estrazione successiva ancora un'altra vincita estrazione del 6 novembre spia mestosa paga il bellissimo ambo secco 17 18 sulla ruota di cagliari come vedete arrivano ambi e terni in due estrazioni consecutive abbiamo vinto terno secco ed ambo secco 17 18 capogioco 17 spia 90 genova condizione del 16 ottobre spia mestosa consigliava la previsione con capogioco 17 i 4 ambi e i due abbinamenti a rotazione per il terno nono colpo 17 18 sulla ruota di cagliari quindi spia mestosa va ancora una volta a colpire a ruota secca estrazione precedente terno estrazione successiva ambo secco e questo vi fa capire quanto sono affidabili queste previsioni è un software che sta producendo continue continue vincite a raffica una dietro l'altra ambi secchi termi secchi ambate estratti determinati è raro che una previsione di spia mestosa non vada a segno e vi dico e insisto e continuo ancora a ribadire contattatemi in privato per questo programma perché vi darà delle grandissime soddisfazioni vincenti è un vero gioiello per vincere al gioco dell'otto secondo me lo dovreste avere tutti in mano e mi aspetto una grande risposta su questo software perché voglio che queste vincite ce le portiamo a casa tutti insieme queste sono vincite reali vincite documentate perché qui c'è la previsione e qui c'è l'esito quindi è tutto nero su bianco quindi chi ha il software in mano può benissimo verificare tutte quelle che sono le vincite di spia mestosa quindi contattatemi via mail via whatsapp numero 348 75 47 715 vi lascio comunque questi riferimenti da reperire in descrizione è un software che potete scaricare tramite un link io vi invio il software lo aprite c'è un codice di registrazione me lo comunicate e io invierò dopo aver acquisito il programma con le modalità che vi indicherò vi invierò un codice di attivazione il programma rimarrà sempre vostro la copia del programma rimarrà sempre vostro ed è un software valido a vita per sempre provatemi in giro un prodotto software o metodo che sia che produce questi risultati che produce i termi secchi spia mestosa vi dico la statistica da gennaio 2021 a novembre 2021 e siamo ancora in corso per la fine dell'anno ha prodotto la bellezza di 28 28 ambi secchi a ruota e 6 termi 6 termi vinti in diciamo l'anno ancora non è finito quindi potrebbero arrivare ancora altri termi siamo a novembre 6 termi secchi e 28 ambi a ruota per non parlare della sfilza di ambate ed estratti determinate quindi sono percentuali altissime 6 termi in meno di un anno mi raccomando a prendere spia maestosa insisto mi raccomando a prendere spia maestosa avrete in mano delle previsioni elaborate da questo programma per andare a vincere costantemente ci avete in mano dei numeri buoni non buoni ottimi superlativi sapete che state giocando delle previsioni molto forti e questa è stata l'ulteriore e l'ennesima vincita da questo software 6 novembre 17 18 sulla ruota di Cagliari mi raccomando a contattarmi per questo programma è una vera macchina da guerra per adesso un saluto a tutti mister sbancorato grazie a tutti